sapremo tutto fra pochissimo perché via partiti in vantaggio l'istampo davanti a silver street flair de nuy blue julian grande gallo ebano puro rami simbalaie seniga dopo 200 metri di corsa passa grande gallo davanti a flair de nuy l'istampo silver street ebano puro seniga orami blue julian e simbalaie all'inizio della curva in vantaggio grande gallo davanti a flair de nuy l'istampo ebano puro con all'interno silver street seguono seniga blue julian orami e simbalaie poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio grande gallo davanti a flair de nuy l'istampo ed ebano puro i cavalli entrano in dirittura con grande gallo in leggero vantaggio attaccato all'interno da flair de nuy all'esterno l'istampo ed ebano puro a centropista seguono blue julian simbalaie silver street e dorami passa ebano puro davanti a simbalaie silver street seniga e grande gallo in vantaggio ebano puro davanti a simbalaie silver street e dorami ebano puro carnetto fiocchi 1,99 la sua quota striminzita sì ma ma vincente però ebano puro la linea al nostro studio